Ritorna al Parco Scarpellini di Pesaro la Fiera Regionale del Riuso, dall'1 al 4 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22. Musica e colori per far da cornice al più grande mercato del Riuso, stand gastronomici, spettacoli e tanto altro. Fiera Regionale del Riuso, dall'1 al 4 giugno al Parco Scarpellini di Pesaro.